Per passare un primo maggio diverso dal solito, la Proloco di Villa Rosa organizza quest'anno la Sagra della Pecora. Il ricco programma prevede l'accoglienza presso Villa Lucrezia con l'iscrizione al concorso di arte estemporanea, la visita guidata alla cittadina con inclusi il celebre treno museo, il cartodromo e la frazione di Villa Prioro, il paese museo. Segnariamo tra gli altri eventi l'apertura del mercatino del lavoratore e lo stand gastronomico della Sagra della Pecora, giochi, musica dal vivo ed il convegno lavoro, terra e cultura. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scrivere all'email inizio d'impressione prologovillarosa www.chiocciolaiou.it o a telefonare al numero 340 74 32 231.